Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Alessandra e lo so che oggi non è domenica, però ho una recensione da fare perché esce oggi in tutte le librerie e io volevo assolutamente parlarvene, in modo tale che poi magari, grazie a questa recensione, voi possiate andarla ad acquistare preferire magari un altro libro, insomma, per farvi un po' l'idea se acquistare o meno questa meraviglia Le segni personali di Margaret Atwood, esce oggi per Ponte Le Grazie e il costo è di 18,50€ Allora, io l'ho avuto in anteprima, mi è arrivato un paio di giorni fa, grazie alla casa editrice, poiché avevo richiesto una collaborazione e l'ho divorato in due giorni, in due! E sono 380 pagine scarse, però vi giuro che è stata una cosa bellissima Ora, prima di fare il solito recap di trama, io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo fate Di attivare la campanellina perché avete visto che sono abbastanza pazza e ho fatto uscire un video in un giorno che non c'entrava assolutamente nulla con la domenica E poi seguirmi su tutti gli altri social, cosa state aspettando ancora? Bene, detto ciò possiamo iniziare Di che cosa parla esattamente? Le segni personali Allora, l'atwood non la conosciamo per il racconto dell'ancella Divenuto anche una serie tv nel 2017 E' stata una lettura pazzesca Mi è piaciuta un sacco, anche se ammetto che l'atwood forse non è per tutti Perché ho parlato con alcune persone che hanno detto no Io e lei non andiamo molto d'accordo Ovviamente sono gusti e quindi non posso esprimermi in merito a ciò che piace o non piace Io posso dirvi soltanto che la sua penna a me piace e anche parecchio E questo libro forse mi ha sconvolto maggiormente Poiché vediamo tutte quante le tematiche care all'autrice Effettivamente proprio messe proprio a nudo Anche grazie ai flashback che comunque si coinvolgono maggiormente il lettore Che non li fa perdere diciamo il filo del discorso Perché vediamo una protagonista a 360 gradi Insomma ci sono state alcune scelte stilistiche che ho apprezzato veramente tantissimo E di cui ve ne parlerò a breve dopo avervi raccontato un po' di che cosa parla effettivamente le geni personali Le geni personali la nostra protagonista si chiama Rennie Rennie è una giornalista, una giovane giornalista che si occupa di moda e di viaggi Lei a un certo punto della sua vita decide di fare un viaggio nei Caraibi Precisamente nell'isola di Sant'Antoine Per scrivere un articolo Quindi già dalle prime pagine vediamo lei in aeroporto che fa una conoscenza un po' strana Poi arriva il momento in cui si siede per provare le pietanze tipiche E cerca in tutti i modi di colloquiare, far finta diciamo di essere con qualcun altro Perché come dice nel libro nessuno vuole leggere di una persona che va a sedersi da sola a mangiare qualcosa E quindi di conseguenza la vediamo proprio pian piano che entra nel vivo di questa storia Inizialmente possiamo vedere una semplicissima giornalista, una ragazza, una donna Che è una nuova esperienza Che decide di cambiare tutta la sua vita per fare questo viaggio Ed intraprendere anche un viaggio molto interiore Quindi già vediamo la figura della donna molto cara alla Tatwood Nel rappresentarla sia nella società sia nel livello individuale Sia anche sessuale Perché le tematiche sessuali nell'atto non mancano E quindi di conseguenza già possiamo iniziare a capire e a vedere esattamente come scrive Possiamo già inquadrarla insomma Se non ci fosse scritto Margaret Tatwood Penso che chiunque avrebbe già capito sin dalle prime pagine che fosse la sua penna Almeno se si è letto gli altri suoi libri Anche perché è un'autrice molto molto prolifica Essendo che sono forse 25 più o meno Tra racconti, raccolte di poesie, romanzi, libri per bambini Insomma ne ha scritti anche abbastanza Quindi di conseguenza già dall'inizio si nota subitissimo la sua penna Si capisce che è lei insomma Le tematiche rapportate e descritte insomma si vede Cosa succede però a un certo punto? Lei fa la conoscenza di un paio di ragazzi appena esce dall'aeroporto Un po' sospetta questa cosa E si chiamano Paul e Lora Questi due personaggi sembrano essere molto semplici in fin dei conti Fanno alcune cose un po' strambe Però strambe nel senso che magari noi non possiamo Non capiamo esattamente Sono un po' ambigue come persone E effettivamente ci sembra già strano come sia stata abbordata diciamo Rennie sin dall'inizio Quindi già ci poniamo un paio di domande Che là Tud quindi sta iniziando già a lasciare un po' di molliche di pane insomma Per farci arrivare alla fine del libro con un colpo di cena bello grosso Seppur il lettore bene o male aveva già iniziato a pensare che cosa sarebbe successo dopo Fa la conoscenza di Paul, fa la conoscenza di Lora Si avvicina in una situazione molto molto diversa diciamo da quello che si aspettava di vivere Quindi di conseguenza veniamo catapultati in una società completamente diversa Da quella che si aspettava effettivamente Rennie Da quello che potevamo immaginare E quindi anche qui si fa vedere anche la sua nota diciamo sociale e politica Più inclina alla democrazia Insomma ci sono tutte queste tematiche, queste cose molto care all'autrice Che in questo romanzo o forse in più degli altri si nota maggiormente Oltre questo la solita penna della Tud è molto tagliente, sfigolosa, a tratti Però lascia sempre quel velo di dolcezza e di tenerezza meglio dire Oltre ovviamente a una lettura molto incalzante e veloce Che coinvolge comunque il lettore Nonostante ci siano i flashback che spesso e volentieri possono indurre a una lettura un po' più lenta Un po' più confusa Ecco là Tud invece non si perde in fronzoli È molto più lineare come racconto, come struttura Oltre ovviamente a un'altra peculiarità diciamo Di quello che ho notato nella sua scrittura in Lesioni personali Ovvero la capacità comunque di farci immergere completamente nella lettura Di trascinarci e di coccolarci Oltre a darci qualche schiaffo morale e fisico Tra virgolette Quando stiamo continuando la lettura All'inizio poi si pensa a una semplice momento lavorativo Una vacanza lavorativa per scrivere questo articolo Sulla cultura e sul costume di questa isola Per poi trovarci catapultati in una situazione molto più complessa Molto più cupa, molto più contorta Ecco E rivoluzionaria per certi versi Insomma posso soltanto dirvi di recuperare assolutamente lesioni personali Posso dirvi di andare immediatamente in libreria a comprare una copia Perché merita davvero tanto Di punti di riflessione Momenti in cui io mi sono anche un po' commossa Altri momenti in cui c'è una tale suspense Un tale coinvolgimento non solo emotivo Ma anche di lettura tale Da concentrarsi al mille per mille In quello che sta avvenendo Soprattutto verso l'ultima parte Io per me Se non fosse stato che dovessi mangiare Lavorare e fare altro Non mi sarei staccata dalle pagine Perché era un qualcosa di troppo troppo bello E di coinvolgente Di travolgente Veloce Una scrittura un po' spigolosa Un qualcosa che mi piace Mi cattura E di conseguenza Vi giuro che non volevo lasciarlo Allo stesso tempo non volevo terminarlo Perché mi stava piacendo E il finale forse mi ha deluso un pochino Un po' troppo veloce Nel senso che poi mi sono ritrovata Con un paio di paginette Ecco Di finale Forse è questo che mi ha lasciato Un po' L'amaro in bocca Però per il resto Vale veramente la pena Vale leggerlo E sono rimasta molto molto contenta Di averlo recuperato Ecco Perché merita veramente E tantissimo Bene Detto questo Ho fatto una Una breve recensione Diciamo Per non Non incomberi in spoiler Anche perché È uscito Oggi praticamente Quindi Non voglio Non voglio rovinarvi nulla Ho cercato semplicemente Di darvi alcune informazioni Necessarie Diciamo A capire se il libro Fa il caso vostro O meno Spero di esserci riuscita E niente Vi ringrazio Per aver visto il video Mi raccomando Un like Non ve lo dimenticate Tanto Ci impiegate Un secondo E niente Alla prossima Ciao